Sono Carlo Fiocchi, responsabile marketing e vendite della Fiocchi of America, Fiocca Munition, qui e abbiamo presentato quest'anno la nostra linea che si chiama Canned Heath, che tradotto letteralmente è calore in latina. Abbiamo deciso di confezionare in lattine le cartucce a fuoco centrale da pistola revolver, i calibri più popolari da carabina e alcune cartucce a pallettoni e slag per il mercato degli enti di polizia. Abbiamo iniziato la commercializzazione in settembre del 2011 e ci attendiamo, come stiamo avendo, un discreto successo e il prodotto sarà prossimamente disponibile anche sul mercato italiano. Contestualmente quest'anno presentiamo anche una linea di prodotti indirizzata alla Single Action Shooting Society, quindi ai cowboy shooting, dove mettiamo in offerta i calibri più popolari, quindi 38 special, 44 special, 45 long cold, 38 speed and west on short, tutti quelli che fanno parte appunto di questa interessante specialità che anche in Italia sta prendendo piede considerevolmente.